Dopo oltre due anni di commissariamento per mafia, da settembre 2015, domenica 5 novembre in municipio X di Roma, quello di Ostia e del litorale cittadino, torna alle urne per eleggere il suo presidente. Le previsioni della vigilia vedono in vantaggio la candidata del Movimento 5 Stelle. Giuliana Di Pillo, tallonata da quella del centro-destra. Monica Piccchia di Fratelli d'Italia. Pesa l'incognita sulla fluenza al voto dopo due anni di gestione commissariale seguita all'inchiesta mafia capitale. Cosa si giocano i 5 Stelle non si tratta per di una semplice tornata elettorale locale ma del primo test alle urne per la giunta M5S di Virginia Raggi dopo 16 mesi in Campidoglio. Lo per due ragioni. Il municipio X il quarto più popoloso della Città, con 231.000 abitanti, poco meno di Venezia, e proprio in riva al mare lo scorso anno la sindaca ha strevinto. Al ballottaggio la raggia Ostia ha incassato il 76% dei voti mentre i 5 Stelle hanno ottenuto il 43,8% dei voti, un balzo in avanti enorme rispetto al 16.9% ottenuto nel 2013 da Paolo Ferrara. Oggi capogruppo in aula Giulio Cesare. Come candidato presidente. È allora un eventuale risultato lontano da quelle percentuali potrebbe riaccendere malumori risopiti a fatica nel movimento sulla gestione del Campidoglio. Tra nomine sbagliate è un'azione amministrativa lenta e ancora poco incisiva sulla qualità dei servizi. Per questo nell'ultimo mese la raggia ha fatto tappa sul litorale almeno una volta a settimana. Anche solo per annunciare piccole opere di decoro urbano. La sfida al vertice tutta femminile e i candidati alla presidenza sono nove. Di cui sette uomini. Ma la contesa per la vittoria si annuncia tutta al femminile. Tra la grillina Giuliana di Pillo data in vantaggio nei sondaggi e Monica Picca. Sostenuta dal centro-destra. A insidiarla. Scelta Gia Luglio dagli attivisti pentastellati. La prima stata delegata al litorale della sindaca e punto tutto sulla legalit. Sul decoro e sul rapporto diretto con Virginia Raggi. La seconda batte sul tasto della lotta al degrado e sul rilancio di commercio e turismo. Viene dalle fila di Fratelli d'Italia. Ed è stata preferita a una candidata di Forza Italia anche per arginare la possibile fuoriuscita di voti verso l'estrema destra di Casa Pound. Ma è così attiva sul litorale. Per il centro-destra ostia un test anche in vista delle regionali del prossimo anno. Un eventuale risultato positivo rafforzarebbe il peso di Fratelli d'Italia nella scelta del candidato governatore, che PD ed M5S hanno gifatto. Non a caso anche Giorgia Meloni non ha lesinato le apparizioni sul litorale nonostante gli impegni legati alle regionali in Sicilia. PD senza speranze. Come in Sicilia sembra decisamente PD stanziato Atos De Luca. candidato del PD, nato a Siena, non vive sul litorale e soprattutto sconta il peso della fine traumatica dell'ultima giunta municipale, a Guidadem, con l'ex presidente Andrea Tassone condannato a cinque anni in primo grado nel processo mafia capitale. A riprova che la corsa di De Luca sia difficile l'assenza del governatore del Lazio Nicola. Zingaretti dalle sue iniziative elettorali. Altro assente dalle urne sul litorale, Alfio Marchini. Ostia certifica lo stop del suo progetto politico sulla capitale. L'imprenditore da un anno distante dalle sedute in aula in Campidoglio e nel municipio X. Da cui pure viene il suo capogruppo. Non ha presentato alcun candidato né espresso indicazioni di voto. Gli altri candidati a contendersi la terza piazza Don Franco de Donno. Per 36 anni vice parroco della parrocchia di Santa Monica sul litorale. Appoggiato da MDP e sinistra italiana. Che ha lasciato temporaneamente il sacerdozio per parlare di ricucitura del tessuto sociale. Il giornalista Andrea Bozzi invece si candida con la parola d'ordine della separazione di Ostia. Da Roma. Opzione G. Tentata due volte nel 1989 e nel 1999. In entrambi i casi il referendum non raggiunse il quorum. E poi Cid Casapound. Che corre con Luca Marsella e punta a ottenere almeno un consigliere municipale. Negli ultimi mesi il movimento di estrema destra ha moltiplicato le iniziative sul territorio. Come la distribuzione di alimenti a persone disagiate. A caccia di un voto di protesta. In corsa anche un candidato del popolo della famiglia di Mario Odinolfi. Un indipendente di sinistra e uno di una lista civica. Le incognite del ballottaggio visto l'alto numero di contendenti l'ipotesi del ballottaggio appare concreta ed eventuali convergenze elettorali tra centro-destra e centro-sinistra potrebbero sparigliare le carte. Per chi 5 stelle non faranno apparentamenti. Si annuncia quindi un voto polarizzato sulla gestione della capitale. Eppure Ostia meriterebbe attenzione a suoi problemi specifici. Fosse autonomo il municipio X sarebbe la decima citt italiana per popolazione. A Ostia c'è il mare. Ma non si vede. Coperto dal famigerato lungomuro costruito negli anni dagli stabilimenti balneari. Ma soprattutto c'è un'emergenza legalit. Negli ultimi 20 anni stabilimenti e ristoranti che affollano i 18 chilometri di lungomare sono diventati spesso preda del riciclaggio. Col litorale utilizzato come portofranco dalla malavita dedita a spaccio e distorsione. Non va meglio sul versante dei trasporti. Per arrivare a Ostia e nell'entroterra ci sono due modi. Entrambi inefficaci. Le trafficatissime via del mare via Ostiense e la via Cristoforo Colombo. Oppure la ferrovia Roma Lido. Le due arterie stradali sono spesso sature di automobili. Una miglioria nel tratto iniziale potrebbe arrivare se decollasse il progetto dello stadio dell'Ellas Roma, che prevede investimenti privati sul quadrante. La ferrovia invece attende un investimento programmato dal governo con il patto per il Lazio nel 2015 per un completo restyling della linea. Risorse che per ancora non sono arrivate a destinazione. Altro su MSN. Voto in Sicilia. De Luca. Cosa prevedo? Una grande distribuzione di cannoli. Agenzia Vista. Riproduci nuovamente video successivo. Elezioni Sicilia. Cancelleri. In nostre liste nessun favore apparenti. Agenzia Vista. Palermo. 03 novembre 2017. Impresentabili. Cancelleri. Musumeci Ponsio Pilato di questa competizione elettorale. End Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Non ci sono parenti e mogli. Niente di tutto questo. Qua un giornalista secondo me una mattina si è end Cancelletto 39. Ha alzato e ha deciso di scrivere queste cose per riempire quattro pagine end Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Queste le parole di Giancarlo Cancelleri. Candidato presidente per il M5S alla Regione Sicilia. A poche ore dall'end Cancelletto 39. Evento che chiudere end Cancelletto 39. La campagna elettorale. La campagna elettorale. Fonte. Agenzia Vista. Alexander Gennagia. Agenzia Vista. Impresentabili. Cancelleri. Musumeci Ponsio Pilato di questa competizione elettorale. Agenzia Vista. Palermo. 0-3 novembre 2017. Impresentabili. Cancelleri. Musumeci Ponsio Pilato di questa competizione elettorale. End Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Non è End Cancelletto 39. Che chi si candida con il Movimento 5 Stelle diventa un eroe. Il punto è End Cancelletto 39. Un altro. Quando ci è End Cancelletto 39. È End Cancelletto 39. Qualcosa che non va nei nostri candidati esce dal Movimento End Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Queste le parole di Giancarlo Cancelleri. Candidato Presidente per il M5S alla Regione Sicilia. A poche ore dall'End Cancelletto 39. Evento che chiudere End Cancelletto 39. La campagna elettorale. Fonte. Agenzia Vista. Alexander Gennagiav. Agenzia Vista. Elezioni. Sicilia. Cancelleri. 51% complicato ma stiamo a vedere. Agenzia Vista. Palermo. 03 novembre 2017. Elezioni Sicilia. Cancelleri. 51% complicato ma stiamo a vedere. End Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Il 51% è End Cancelletto 39. Complicato ma stiamo a vedere. Soltanto dopo il 5 novembre possiamo capire cose End Cancelletto 39. Accaduto End Cancelletto 39. End Cancelletto 39. Queste le parole di Giancarlo Cancelleri. Candidato Presidente per il M5S alla Regione Sicilia. A poche ore dall'End Cancelletto 39. Evento che chiudere End Cancelletto 39. La campagna elettorale. Fonte. Agenzia Vista. Alexander Gennagiav. Agenzia Vista. 1 a nulla. IMPOS. TA Z. ION. E. NON. Attivo. H. HDHQSDLO.